Maxi operazione messa a segno in Abruzzo da carabinieri e guardia di finanza congiuntamente sotto legida della direzione distrettuale antimafia. I particolari in diretta davanti alla caserma della guardia di finanza di Chieti e la nostra Anna Di Giorgio è uscito poco fa il comunicato proprio della DDA dell'Aquila che aggiunge qualche particolare alla notizia su cui un po' tutti stiamo lavorando da questa mattina. Una notizia di grande rilievo per quel che riguarda insomma la lotta non soltanto ai traffici di droga ma anche alle associazioni criminali come quella che è stata sgominata oggi. Anna buon pomeriggio. Sì Carmine buon pomeriggio a te e ai nostri telespettatori. La sintesi un po' di tutto l'hai fatta bene proprio tu introducendo il nostro collegamento con la telecamera di Diego Martelli qui a Chieti proprio davanti al comando provinciale della guardia di finanza di Chieti perché dalle prime luci dell'alba quindi di questa mattina è stata portata avanti da circa 150 militari della guardia di finanza e dei carabinieri dei comandi provinciali di Chieti questa maxi operazione che ha portato a sgominare una banda dedita al traffico di sostanze stupefacenti ma anche alle estorsioni. L'aggravante è stata proprio quella contestata del metodo mafioso perché c'erano anche estorsioni di mezzo che sono state accertate dalle lunghe indagini condotte congiuntamente appunto da carabinieri e finanzieri, estorsioni ma anche l'utilizzo di armi. Ma intanto partiamo con ordine diciamo che le ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP del Tribunale dell'Aquila Marco Billi su richiesta della direzione distrettuale antimafia e del sostituto procuratore sono state in tutto 20, 18 in carcere e 2 ai domiciliari. Quindi si tratta di 20 persone che sono state in qualche modo attenzionate, ci sono state anche decine di perquisizioni nei locali di pertinenza poi di queste persone ma diciamo che queste indagini sono state avviate nel 2019 a seguito di un altro filone di inchiesta di un'altra indagine che aveva portato nel 2018 l'operazione Evelyn. Anche in questo caso si trattava di organizzazioni che operavano sul territorio per il controllo del territorio per quel che concerne lo spaccio di sostanze stupefacenti ma anche il traffico di armi. L'operazione era Evelyn, dicevamo nel 2018 e aveva diciamo messo sotto i fari della giustizia persone per lo più albanesi insomma che facevano parte di questo clan che operava nell'ambito delle sostanze stupefacenti. Anche in questo caso si parla per lo più di persone albanesi che facevano parte di questa organizzazione mafiosa che però inizialmente aveva, era in contrasto con la prima iniziale banda che era stata attenzionata nel corso dell'operazione Evelyn e che poi appunto ha preso il posto per il controllo come dicevamo del territorio di quest'altra banda, di queste altre appunto, di queste altre persone che erano state arrestate appunto nel 2018. La cosa che è stata messa in evidenza e i particolari si avvencono proprio dal comunicato stampa che è stato diramato pochi minuti fa e che questa droga veniva principalmente dalla Calabria e quindi questi soggetti che poi diciamo la tra virgolette smerciavano appunto proprio sul territorio erano in contatto diretto con le endrine dell'area di Vibo Valencia ma la droga veniva anche evidentemente dall'Emilia Romagna, dalla Puglia e anche dallo stesso Abruzzo come è stato messo in evidenza in questo stesso comunicato. Poi veniva ridistribuita dicevamo a livello locale e i proventi di questo smercio diciamo così venivano in qualche modo riutilizzati, ripuliti, non so come vogliamo definire insomma la questione ma venivano riutilizzati per la gestione di locali, di attività commerciali che formalmente erano lecite ma che di fatto venivano finanziati proprio dagli introiti rilevanti da questo smercio di sostanze stupefacenti e quindi si parla di bar, di negozi di ortofrutta, di concessionarie di automobili, videolotteri, sale slot e servizi di scommesse. In tutto questo quindi c'era il ruolo importante svolto da questa banda criminale di soggetti per lo più albanesi dicevamo che praticamente si occupavano di controllare per l'appunto il territorio. L'aggravante dicevamo contestata a queste persone è quella del metodo mafioso proprio perché spesso e volentieri venivano utilizzate anche armi per convincere appunto le persone anche per controllare nello specifico proprio il territorio. Altre cose da dire è che si trattava per lo più del territorio della costa meridionale abruzzese di San Salvo, tra l'altro c'era un bar che questa mattina è stato sequestrato proprio a San Salvo e che fungeva proprio da quartier generale diciamo di questa banda criminale. Le indagini si sono concentrate anche lì, poi si sono appunto diramate con varie perquisizioni anche di locali di questi 20 soggetti che sono stati attenzionati appunto sia dai finanzieri che dai carabinieri. Tutto questo in breve poi particolari le racconteremo dopo ma apre anche un altro fronte, una riflessione che riguarda proprio quella dei tribunali come quello di Vasso che è uno di quelli che dovrebbe essere soppresso nella riorganizzazione della geografia giudiziaria abruzzese che in molti adesso stanno dicendo appunto essere un faro importante soprattutto per la prevenzione nei confronti di questi fenomeni criminali. In tal senso si è espresso anche proprio il procuratore capo di Vasto, Giampiero Di Florio, che ha parlato appunto dell'importanza di questi cosiddetti tribunali di frontiera proprio per prevenire la penetrazione di queste cellule malavitose perché insomma si tratta di territori che sono proprio al confine con aree maggiormente permeate da questo tipo di organizzazioni criminali. Questo insomma è in estrema sintesi poi vedremo di saperne anche di più nel corso del prossimo notiziario con un servizio molto più dettagliato Carmine. Grazie. Non hai domande ti restituiamo le linee. Grazie, grazie Anna, opportuno appunto anche il riferimento alle dichiarazioni del PM di Florio che sono state rilasciate questa mattina sul quotidiano Il Centro. Grazie.